Amici di canale caccia.tv siamo all'interno dello stand della Paganini, Paganini è uno dei distributori storici nel panorama venatorio italiano, 150 anni di storia, praticamente ci dicono l'importanza che ha avuto questa azienda nell'ambito della distribuzione. Sono qui con Alberto, oggi parleremo di Leopold, della nuova serie di Leopold da battuta, ma parlare di Paganini vuol dire parlare di Remington, parlare di Leopold, di Diana, di Hildiz, di Bachmaster, Kimber, Barnes e tanti altri prestigiosissimi marchi che l'azienda piemontese distribuisce da tutti questi anni, per cui è un piacere per le telecamere di canale caccia.tv essere qui all'interno, adesso ti lascio la parola perché i nostri amici cacciatori vogliono conoscere, chiaramente sono ghiotti di conoscere le novità di mercato. Bene, la serie è la VX5, non è specifica sulle ottiche da battuta, è l'ultima nata della Leopold e comprende diverse tipologie d'ottica, dalla battuta al tiro a lunga distanza, a variare ovviamente del range di ingrandimenti che viene proposto. È caratterizzata da avere le lenti in alta definizione, quindi sono delle HD, alcuni modelli sono illuminabili, quelli con ingrandimenti più alti no, tubi da 30 e da 34 in funzione di quelli che sono appunto gli ingrandimenti dell'ottica. Quindi c'è una vastissima gamma per tutte le esigenze praticamente che vuole andare in battuta. D'altra parte ricordiamolo, Leopold è un prestigiosissimo marchio americano conosciuto da tutti gli amici appassionati, estremamente gettonato come prodotto, uno dei prodotti leader del settore. Credo che sia l'ottica più venduta nel mondo venatore, considerando che negli Stati Uniti usano quasi tutti Leopold e i cacciatori sono molto più che non da noi. Questo la dice già a lunga? Sì, come dicevo, hanno la torretta dell'elevazione con la possibilità dello zero stop, quindi di azzerare il punto d'impatto e di ripristinarlo con un clic che riporta praticamente la torretta del suo punto di zero. È un gran bel prodotto. A livello di costi, su che ordine di grandezza andiamo? Perché un'altra cosa che contraddistingue dell'Eopold, oltre che la qualità... Questo nello specifico è un'ottica da 1.610, considerando che è illuminata e un HD, diciamo che rimane nella fascia di prezzo medio alta, con un livello qualitativo elevatissimo. Bene, tra poco andremo ad esplorare ancora più nel dettaglio lo stand di Paganini. Io intanto ti ringrazio per esserti messo a nostra esposizione. Sui nostri siti, canale caccia.tv, ma in particolare su cataloghi caccia.it avrete modo anche di trovare la possibilità di andare a scaricare tutti quanti i cataloghi delle marchie rappresentate da Paganini. Non di tutti, perché ce ne avete un'enormità, ma la gran parte dei prodotti principali, dei brand principali offerti da Paganini sono presenti praticamente su cataloghi caccia.it. Tra le altre cose, questo di Leopold è uno di quelli in assoluto più gettonato, perché chiaramente essendo un brand riconosciuto sia per la sua qualità a livello internazionale, giustamente come dicevi tu, i cacciatori americani sono i cacciatori più numerosi al mondo e 9 americani su 10 utilizzano questo tipo di ottiche, la dice lunga sulla qualità, la versatilità e l'ampiezza di gamma di questi prodotti, perché qui noi abbiamo presentato il Solo VX5, ma c'è una gamma veramente infinita di soluzioni che viene offerta da Leopold. Ti ringrazio.